All'escalation di risse violenze attivandalici in centro storico, l'ultimo tastello della rapina a mano armata in pieno pomeriggio si aggiunge e preoccupa non poco i cittadini. Ieri un campanello di curiosi si è subito raccolto alla gioielleria Ranieri, vittima della rapina. Tutti increduli i cittadini di come sia potuto accadere in un normale pomeriggio quando il centro è pieno di gente intorno alle 18. La polizia ora sta vagliando le immagini delle tre camere di sorveglianza per cercare di acquisire più elementi possibili. Ieri sera in centro e periferia c'erano molti posti di blocco da parte delle forze dell'ordine. I malviventi a certo erano due, il proprietario li ha visti scappare a piedi. I dipendenti sono stati minacciati con le pistole e fatti stendere a terra. Per quel che riguarda il bottino si sta quantificando, i proprietari stanno facendo l'inventario. La maggior parte delle vetrine erano chiuse, quindi hanno arraffato in pochi secondi ciò che potevano, che non è poco comunque. Qualche Rolex di ingente valore, orologi di altre marche. Novità non ce ne sono, stiamo lavorando, gli uffici investigativi che sono intervenuti sul posto, stanno verificando tutto lo svolgimento del modus operandi che hanno tenuto, i due personaggi che si sono intrufolati dentro la gioelleria. Stiamo lavorando, non possiamo dire niente, comunque c'è anche un assiduo rafforzamento del controllo del territorio per verificare la movimentazione di soggetti che non appartengono all'Interland Aquilano. Ma ciò di cui più si parla ora è la sicurezza del centro storico, alla luce degli ultimi fatti. Ieri peraltro ci sono stati anche diversi furti in appartamento, per alcuni urge un piano. Dobbiamo verificare innanzitutto se sono locali, se sono persone di fuori, dobbiamo verificare innanzitutto se riusciamo ad avere elementi per arrivarci direttamente o se no per altre vie attraverso anche il mondo dei ricettatori e del riciclaggio di questo materiale.